buongiorno eccoci qua siamo in dimostrazione via voce bluetooth parrot una soluzione che vi permette di mantenere l'autoradio originale e nello stesso tempo integrare un via voce bluetooth di alta qualità direttamente su tutto l'impianto audio della macchina in automatico quando riceverete una chiamata e state ascoltando l'autoradio si l'autoradio andrà in muting e vi farà sentire solo il via voce bluetooth andiamo direttamente in dimostrazione stiamo provando il via voce di tanto bene grazie ecco qua come avete visto nel momento in cui abbiamo ricevuto una chiamata l'autoradio è andata in silenzio ha dato priorità al via voce bluetooth su tutto l'impianto della macchina chiusa la conversazione entra in funzione l'autoradio vi ringrazio buona giornata